Abiti da sposa Marcelloni Terni, vi invita nel proprio showroom. Tutti i giorni siamo disponibili per le prove degli abiti da sposa e ad effettuare personalizzazioni di ogni genere, grazie alla nostra sartoria con esperienza trentennale. Domenica 20 e 27 novembre 2011 presenteremo le nuove collezioni 2012 e i marchi più importanti, ahimè Pignatelli, Pronovias e la sposa, per i quali nel nostro showroom potrete richiedere la prova abito. Scaricando il coupon di partecipazione gratuita o chiamando il numero 0744 40 9703 potrete prenotare la visita presso il nostro showroom. Tutti coloro che giungeranno da una distanza superiore ai 100 km scaricando il coupon acquisiranno il privilegio di avere un nostro assistente a disposizione. Non vi rimane quindi che prenotarvi e assicurarvi una giornata indimenticabile.